Porto illegale luogo pubblico di armi comuni da sparo, nonché detenzioni di esplosivi, armi e munizionamento da guerra. Con queste accuse alla fine FC di 73 anni è stato arrestato, ieri mattina in fragranza di reato, dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sulmona, unitamente a quelli della locale stazione forestale. Si è chiusa così la complessa operazione che ha visto impegnati i militari nella serata di sabato. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni cittadini che avevano udito degli spari provenienti da una zona isolata del comune di Bugniara. I carabinieri si sono attivati immediatamente con le ricerche e hanno sorpreso, poco dopo, il cacciatore mentre si esercitava con un fucile da caccia, tirando al bersaglio delle sagome costruite artigianalmente e apposte allo scopo in quella zona. A quel punto è scattato subito il sequestro del fucile, di altre carabine e munizioni rinvenute sul posto, nonché delle sagome, in parte integre e in parte bucate dai fori dei proiettili utilizzati. Ma non finisce qui. I militari hanno effettuato, come riportato in anteprima da Onda Tg, un'accurata perquisizione presso la sua abitazione di Bagnaturo, rinvenendo ulteriori 80 armi da caccia, tutte regolarmente denunciate, a differenza di come si era preso in precedenza, come le due carabine sequestrate, ritirate cautelativamente insieme alla relativa licenza autorizzativa. A casa dell'arrestato sono state rinvenute diverse munizioni da guerra, alcuni residui bellici di bombe a mano, migliaia di cartucce regolarmente retenute e 30 kg di polvere da sparo solo in parte denunciati. Il pensionato è stato quindi dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.